Federico Fashion Style ospite di Verissimo su Canale 5 il programma condotto da Silvia Toffani si rivela degno di quel nome che porta ospitando personaggi importanti come anche il buon Federico Federico il quale disvela a tutti il fatto che ama la sua figlia Sophie ha una grande amore nei confronti di questa amata figlia potrei essere povero avrebbe il buon Federico vivere per strada ma avere il sorriso di mia figlia non ha alcun prezzo va in lacrime dopo aver visto proprio il messaggio di Sophie nei suoi confronti che viene mandato in onda su Verissimo nonostante sia uguale a me avrebbe aggiunto Federico spesso la gente cattiva si attacca all'estetica pensando che io sia gay, pensando che io sia un omosessuale in realtà vivo e sono felice con la mia compagna non mi interessa di cosa pensano gli altri insomma smentisce di essere gay ma penso che anche essere gay non è un problema perché vi ricordo che esiste questo orientamento sessuale che non è un male, ripeto però lo stesso Federico disvela a tutti che vive tranquillamente la sua condizione da etero qual è e vuole bene non chiama molto la sua figlia Sophie e di chi eventualmente pensa che lui sia gay se ne frega, se ne infischia e va avanti per la sua strada bravo caro Federico, sei un grande, sei un esempio di vita io ero presso questo ragazzo e lo stesso perché è un uomo semplice umile e per bene ma soprattutto un uomo che ha un grande cuore, un grande animo da narratore italiano è tutto questo video non vuole ledere la sua prevasi ma solo informare eventuali persone di ciò che avrebbe detto il buon Federico Fashion Style a Silvia Tuffarin a programma Verissimo gennaio 2022 ciao a tutti, buona serata